La copertura in bilancio per i 6,3 milioni di euro di debiti che il Comune di Chieti ha accumulato nei confronti del consorzio CFA-CNS è già accantonata in bilancio e dunque non ci sarebbe alcun pericolo per la procedura di risanamento dell'ente. La rassicurazione arriva direttamente dall'Avvocato Massimo Cassarino, assessore agli affari legali del Comune di Chieti, che al Tg8 fa chiarezza su quello che l'opposizione in Consiglio Comunale indica come nuovo debito. Il consorzio CFA-CNS, che si occupava della gestione dei rifiuti in città, era operativo dal 2013 al 2018 e dunque i debiti accumulati nulla avrebbero a che fare con l'amministrazione del sindaco Diego Ferrara, subentrato alla guida del Comune nel 2020. Il contenzioso è stato oggetto di una CTU, consulenza tecnica d'ufficio, che ha ridimensionato l'importo iniziale di oltre 14 milioni di euro di crediti avanzati dal consorzio agli attuali 6,3 milioni e che ora dovrà essere sottoposto all'attenzione delle parti per proseguire poi con l'iter giudiziario, come spiega al Tg8 l'Avvocato Cassarino. In fase di processo il Comune ha chiesto al giudice di chiamare in causa a propria garanzia ed in caso di soccombenza gli ex amministratori e i dirigenti all'epoca in servizio. In caso di soccombenza il Comune potrebbe rivalersi su questi soggetti. La prima cosa da dire è che siamo in presenza di una bozza, per cui a questa bozza le parti processuali hanno diritto di fare repliche, approfondimenti, contradduzioni e solo allora all'esito di queste contradduzioni il CTU predisporrà quello che è l'elaborato finale che sarà sottoposto al giudice. Per cui dare per oggi certo un debito appare proprio prematuro. Va pure rilevato che a fronte di una richiesta di 14 milioni di euro, somma chiaramente terribile, sentirsi dire dal CTU che la somma potrebbe essere di 6 milioni e mezzo, appare che i ricorrenti, gli attori sono sicuramente parzialmente soccombenzi. Però siamo, e questo, ancora in una fase totalmente embrionale del contenzioso. Altra cosa importante è che comunque pur essendo il Comune in dissesto e pur essendo questo periodo di competenza dell'organismo straordinario di liquidazione, sono state messe in via prudenziale delle somme in bilancio. Però è questo, da qui all'esito del giudizio, e parliamo di fase di primo grado, dopodiché ci potrà essere eventuale appello al ricorso per cassazione, passeranno anni.